Per Dio, quanto ho odiato questa città e quanto l'ho amata in certe controre, affogata nel vento marino, nel silenzio notturno delle strade, improvviso e naturale, dopo la grande corrida del traffico. Questa città diventa un garage, dove tutti sanno di tutti, dove ci si ritrova ora in un circolo, ora in un foyer, sempre gli stessi, a tagliarci i panni addosso per tenere in vita la tradizione di città di provincia, piccolo borghese, nonostante le aree da megalopoli. Eppure, questo è il luogo delle fortune, l'eldorado per tanti che vennero dall'interno, di baresi di Bari, io ne ho conosciuti pochi, arrivarono dal fascismo in qua, dalla provincia e dalla basilicata, uomini di ogni condizione, ad invadere ufficie e scrivanie e popolarono la città, con un grande spostamento all'interno del mezzogiorno. Così sono nati i nuovi quartieri, Carrassi, Poggio Franco, Iapigia. Così è nato il lungomare Nazario Sauro, con la sua infilata di lampioni, un filo di perle al collo dell'Adriatico e sulla laguna del Teatro Margherita. Il mondo nuovo. Questa è la definizione della città data lungo il corso degli ultimi 150 anni da molti poeti baresi, da Brescia a De Fano. Non fai in tempo a girarti, scrivono, che appaiono gru, ponteggi, nuovi edifici e foreste di pilastri. Il desiderio di rinnovo è tipico dei baresi, che da poco hanno imparato ad amare le proprie memorie urbanistiche, ma che fino a ieri, ad un vecchio edificio, preferivano una moderna e più funzionale struttura in vetro e cemento. L'osservazione rapita, la contemplazione muta e riflessiva dei paesaggi, anche umani, non è di questa gente, che sa con un'occhiata farti conti in tasca, calcolare quanto sangue e a che prezzo acquistarlo, dalla banca delle tue vene. Fu forse la ragione per cui incontrai alla fine degli anni Sessanta non poche difficoltà a penetrare la guardia di questo corpo sociale. L'immigrazione selvaggia dalla provincia, un fenomeno ancora tutto da analizzare, ha costretto alla difesa il nucleo autottono della città, una sorta di diffidenza o di snobismo. Bari mi appariva arcigna, arroccata nella difesa dei propri interessi, chiusa nei suoi nuclei familiari, popolata da cittadini poco amanti della vita di piazza e profondamente agguerriti contro le tradizioni. La città le avrebbe riconquistate più tardi. Si sarebbe accorta della loro sparizione solo verso la fine degli anni Settanta, quando da salvare restava poco. Eppure è proprio in questa città, così difficile da penetrare, in questa città amata e odiata, che io ho vissuto sentimenti, amicizie, fortune. Qui ho conosciuto, nel 1970, la struttura alternativa dei Campi Elisi, dove Chris Chiapperini, Lino Di Turi e Vito Signorile tentavano di far filtrare il beat e l'avanguardia. Qui ho frequentato un sudalizio di poeti arrabbiati, il gruppo Interventi Culturali, che tentava di impiantare negli anni Ottanta una tradizione creativa. Ed è simile al cuore del carciofo la geometria di Tufo e Cemento di Bari, irta all'esterno di spine, ma tenera dentro. In questa città contraddittoria, sospesa tra passato e futuro, incerta sul secolo al quale appartenere, sia al nuovo millennio o a quello che ci lasciamo alle spalle, ho imparato ad affiancare alla grande cultura dei classici le teorie dei moderni. L'asse Bari-Milano e una strutturazione sociale più complessa di quella che lasciavo, il più lento e sonnacchioso mondo lucano, mi costringevano a fare i conti con Marcuse, con la scuola di Francoforte, con le organizzazioni anarchiche che in Puglia hanno conosciuto sempre grandi fermenti. Il nostro 68? In ritardo, ma certamente in anticipo su molti centri dell'interno. L'impatto con una borghesia impiegatizia e mercantile e con un proletariato urbano, formazioni sociali ben diverse dalla realtà rurale e più semplificata dei miei paesi, una società normogenea, disgregata e guardinga, nella quale era norma quotidiana la logica obesiana, tutti contro tutti, e al tempo stesso la strutturazione in consorterie e aggregati che si sono andati moltiplicando in questi ultimi anni. Tra Lions, Rotariani, Lioness, Zonta, Fidapa, Famiglie, Club e associazioni varie, quando giunse a Bari per frequentare l'università, mi meragliavo nel sentire la mia pensionante vantarsi di esserne scesa col marito. Mi raccontava storie di ragazze che avevano imprigionato un fidanzato refrattario al matrimonio fingendosi incinte. Mi spiegò anche che, durante la guerra, la miseria aveva consigliato questo metodo pratico per far saltare cerimonie e pranzi inuziali, ma a me appariva allora piuttosto un salto di morale, un pragmatismo incomprensibile per il mio mondo arcaico. A vent'anni di distanza le cose sono ovviamente cambiate perché è mutato il rapporto dei giovani col matrimonio. Sta di fatto che questa liberalità di costumi può spiegare il carattere pragmatico dei baresi, uomini fattivi, capaci di cavare sangue dalle pietre. Una medaglia con doppia faccia perché li fa secondo la felice espressione di Tommaso Fiore prevalentemente formiconi. Così, per secoli, essi sono stati incapaci di vedere nell'arte e nella cultura dei beni sociali. Poi sono venute le cicale, sono venute molto tardi. Direi che stanno nascendo nella lunga estate degli anni 90. Non so nascondere una certa simpatia per questa società di imprenditori. Li abbiamo avversati per troppi anni, infebriati dalle ideologie. Gli imprenditori baresi hanno saputo darsi in tempo il colpo di reni necessario a trasformare la cultura del sud da rurale ad industriale. Per tutti citerò Gianfranco Dioguardi, ingegnere dell'edilizia, della telematica e della scrittura, imprenditore illuminato, per il quale non si può prescindere nell'impresa dal concetto di economia, cioè di saggia amministrazione dell'organismo imprenditoriale, ma al tempo stesso non si può abbiurare dal concetto di impresa-laboratorio nel quale trovi spazio un progetto per l'avanzamento culturale di tutti gli addetti, quadri dirigenti e operai. Ma Dioguardi è anche lo studioso del Seicento francese, l'appassionato cultore di figure come Baldassar Gracian e Angel Godard, l'uomo che, nonostante la fiducia nel razionalismo, vede nel caso una forma di intelligenza del mondo. Mentre pullurano banche e nuovi istituti di credito e di leasing, si avviano timidamente forme di mecenatismo che ancora non permettono alla cultura letteraria, artistica e teatrale della città di volare alto. Bari, nonostante i Dioguardi, i Romanazzi, i Matarrese, i De Gennaro, nonostante la programmazione del pre-Truzzelli, è ancora un paese che consuma prodotti culturali fabbricati altrove e se qualcosa di creativo si tenta è dovuto a piccole ma vivaci strutture come l'Abeliano, il Chismet, il Piccolo Teatro e una miriade di compagnie e gruppuscoli che hanno segnato la fioritura del teatro dialettale da vent'anni a questa parte. Il piacere del rinnovamento lo vedi da sempre anche addosso alla gente. Il gusto pacchiano, lo spagnolismo robbivecchio dell'antica capitale del Regno a Bari, è poco sentito. L'ostentazione di ricchezza qui ha una sua finezza. È una questione di gusto che si palesa proprio nel vestiario, negli abbinamenti di colori e di stili, negli abbigliamenti sempre eleganti e non necessariamente vistosi, ma pacchiani, anche se trovi talora smodato l'uso dei monili, secondo una tradizione araba. Gli ori che ho visto acquistare spesso arrate persino da famiglie poco abbienti. La tradizione orientale è passata e ha lasciato il segno. Non fosse per il timore degli scippi, che qui sono frequentissimi. Bari sarebbe una reggia di creso o di mida, con donne rivestite di monili lussureggianti e uomini che ostentano persino d'inverno una catena d'oro con crocifisse e medaglie, sulla camicia semisbottonata e una selva di peli. Ho parlato di Napoli. Qualche tempo fa un convegno tentò di mettere a confronto le due città meridionali. Conclusione? Scarsi rapporti commerciali, culturali e persino telefonici. Bari e Napoli si ignorano e guardano entrambe a nord. Napoli guarda verso Roma, Bari verso Milano. La luce scende ancora dal nord. 250 km di distanza hanno reso molto diverse queste città. Napoli è babilonica, divorata dall'immobilismo e dai rifiuti, avvolta purtroppo in un degrato irreversibile, una città nelle mani della camorra. Napoli è città spagnola e surreale, utero di mille tradizioni culturali e artistiche, luogo della fantasia e dello stupore, amante dell'antico e del vecchio senza distinzioni. Bari è, al contrario, città signorile e ricca, urbanisticamente medievale nella zona antica, francese nel suo cuore commerciale, architettonicamente prevedibile nelle geometrie delle strade, nella razionalità dei complessi edilizi. Persino s'abbauda in alcuni punti, tant'è che qualcuno la dice strutturalmente vicino a Torino e qualcun altro, con una punta di ironia e riferendosi a un distico popolare, dice che se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Bari è città martoriata dalla delinquenza minorile, presa d'assalto solo da pochi anni dalla delinquenza organizzata, che sta introducendo i taglieggiamenti, le guerre di clan, le logiche malavitose, come da tempo è accaduto al Salento e a Taranto, come sta accadendo a Foggia, con taluna organizzazioni dai nomi fantasiosi e medievaleggianti, la Rosa, oppure la Sacra Corona Unita. La città si è andata dunque sviluppando per quartieri compatti, una zona medievale attorno alla Basilica di San Nicola e alla Cattedrale, con immissioni di edifici e con ristrutturazioni posteriori apparse tra 200 e 700, un quartiere murattiano di progettazione ma rifatto tra fine 800 e primo 900, e infine i quartieri di edilizia popolare e quelli residenziali, aree ben definite e soggette da un vincolo elastico che permette interventi pseudo-clandestini grazie ai quali spariscono nottetempo interi edifici antichi per essere sostituiti con strutture sfacciatamente moderne. In questo il barese è veramente diverso dal napoletano. Ama poco l'antico, lo sente vecchio, soggetto alla faticenza, abituato ad abbodernare e a monetizzare tutto, tra l'impulso estetico e quello affaristico si lascia vincere dal secondo. Come ho già detto è spirito pratico, la sua è una fede operante e non contemplativa. D'altro canto, perché in questa città non esiste una forte tradizione letteraria? Perché in passato Napoli è sempre stata attenta a impedire il sorgere di gruppi intellettuali non controllabili e poi perché i versi non danno pane. Secondo un aneddoto pugliese nato da antipatie municipali, ai garibaldini che si apprestavano a mettere piede in Bari, i baresi avrebbero offerto di acquistare stoffa rossa per camice. L'aneddoto è connotativo delle disposizioni che hanno contribuito a fare di questa città una delle più ricche del mezzogiorno, il mercantilismo. Il venditore ambulante, frequentatore di fiere paesane e mercati rionali, racconta Nicola Saponaro né i girovaghi, riesce a metà novecento a stabilizzarsi e ad aprire bottega. Nasce l'imprenditoria mercantile, mentre l'antico raccoglitore di cartoni e di rottami si è trasformato ingrossista e fa da tramite tra l'industria milanese e i dettaglianti meridionali. Una tensione al risveglio che impone uno scatto di reni alla vita della città. La cultura letteraria novecentesca di Bari è fortemente di segno saggistico e meridionalista, di connotazione ideologica e pragmatica. Il riferimento è alla linea che parte da Tommaso Fiore e Gaetano Salvemini e a proda a Beppe Vacca. A fianco si muove la grande scuola critica avviata da Mario Sansone e che fonda la rilettura della cultura letteraria nazionale sul rapporto tra scrittura e società. La scuola allarga successivamente le braccia verso la letteratura popolare, verso lo scavo d'archivio, verso una critica a forti connotazioni ideologiche e a nove erano oggi maestri di primordine da Arcangelo Leone De Castris a Michele Dell'Aquila a Francesco Tateo a Gian Battista Bronzini a Vitilio Masello. La certezza di fare immancabili torti mi spinge a non stilare elenchi ma restano innegabili i contributi di molti da Luciano Canfora che sa utilizzare la filologia come mezzo investigativo del politico all'Allo Russo che ha guidato da Bari per decenni le sorti di Belfagor il bimestrale fondato dal padre Luigi a un germanista di notevole finezza come Giuseppe Farese all'anglista Vito Amoruso ai francesisti Giovanni Dottoli e Vito Carufiglio a italianisti come Ettore Catalano Gigliola Dedonato e Pasquale Vozza Una città è fatta da tutti questi uomini ed è fatta dai suoi narratori dai suoi medici dai suoi architetti dai suoi poeti dopo Vittorio Bodini Salentino d'origine spagnolo per amori letterari frequentatore della città per ragioni di lavoro sono venuti Giorgio Saponaro che ha raccontato la borghesia barese con disperazione erotica e Vittorio Fiore poeta e saggista che ha scritto versi sui tradimenti subiti dal mezzogiorno uomini che diedero vita al mitico Sottano un circolo del quale tutti oggi conservano qualche memoria e dove passarono Levi Scotellaro Moravia De Martino uomini che animarono la vita dell'antico caffè Stoppani dopo di loro è venuta Maria Marcone che ha narrato quanto è difficile essere donna in questa terra Tommaso di Ciaula testimonia di rato e sognante del passaggio dalla civiltà dell'aratro a quella della catena di montaggio Lino Angiuli analista febbricitante del mutamento dall'era dell'ulivo a quella della scrittura sono venuti Daniele Giancane animatore di gruppi e altri giovani poeti testimoni delle angosce di una generazione in cerca di nuovi valori e priva di sogni pensare che solo 130 anni fa Bari contava appena 34.000 abitanti oggi ne ha 10 volte tanti la sua borghesia intellettuale partecipava ma senza pesarvi minimamente alla vita culturale del regno era la Bari dei Giordano Bianchi Dottula del marchese di Montrone di Giulio Petroni e di Francesco Saverio a Brescia era la città dove dai primi dell'ottocento erano venuti ad impiantare tipografie i napoletani Nicola Cannone Domenico Capasso e Ferdinando Petruzzelli dove si stampavano le pagine del piccolo corriere di Bari e la risveglia Spartaco il corriere delle Puglie che si sarebbe trasformato più tardi nella Gazzetta del Mezzogiorno la città a cui facevano capo lo stampatore morfettese Tiberio Pansini e il tranese Valdemaro Vecchi e dove dieci anni prima di fine secolo si sarebbe insediato Giuseppe la Terza da allora ne è passato di tempo la Bari dell'abbate Menotti che pungolava le fazioni politiche a colpi di vignette ha conosciuto il grande dimenticato poeta armeno Harad Nazarianz e i pregevoli esiti del teatro dialettale di Vito Mauro Giovanni le ironie di Antonio Rossano la pittura antropologica di Michele Damiani quella sognante di Adolfo Grassi i barocchismi di Gennaro Piccini e il realismo magico degli spizzico quello metafisico di La Bianca ha conosciuto la capacità imprenditoriale di molti editori dai cavalli delle edizioni Levante a Raimondo Coga della Dedalo a Vito Macina Grossa della Adriatica a Nicola Cacucci ai De Donato agli Hadda mi piace la sera camminare senza meta per le vie del centro distrarmi guardando le vetrine Bari dei negozi sai riservare sorprese da via condotti e da porta portese ho ricavato talvolta attacchi di capitoli e scenografie teatrali dal gusto espositivo di taluni vetrinisti dalle fantasie di stoffe dalle follie degli antiquari una tecnica o un'arte che mi fa impazzire probabilmente perché non riesco a imitarla è quella delle commesse che impacchettano ho cominciato a farci caso da quando ho letto l'uomo dal fiore in bocca le buste di plastica oggi stanno uccidendo quest'arte allora le commesse che Pirandello si deliziava ad ammirare nell'impacchettamento meticoloso io me le gusto nella loro bellezza giuro Bari ha una fauna da capogiro birra e frutti di mare pizza e birra chiella orecchiette e rape ecco il barese a tavola con una voglia matta di ridere e infilare battute il dopolavoro li trasforma in allegri cantimbanchi in compagnoni allo spirito dell'avaro timoroso del patrimonio sparagnino e micragnoso rozzo e attento soltanto alla borsa qual è tratteggiato dalla figura farsesca di Don Pancrazio Cocuziello maschera buffa e prototipo del ricco proprietario terriero pugliese Don Pancrazio è originario di Biceglie emigrato a Napoli e messo alla berlina a Pulcinella fa ecco lo spirito ridanciano di Paolino il servo furbo e allegrone creato nelle campagne o quello di Farinella ma il proprietario di appartamenti e di aziende non ha più nulla del massacro cucuziello è uno che ama gli aggi e il bel mondo sia padrone o servo in questo è inimitabile il barese non sa essere piagnone negli anni d'oro di Radio Bari nel secondo dopoguerra ebbero successo tre maschere tre tipi a cui alcuni attori baresi davano voce e carattere colino marietta e mbavetucce rappresentavano il proletariato urbano che aspirava a concretare il miraggio del benessere borghese i primi frigoriferi entravano in casa con i primi televisori e con le vasche da bagno e queste maschere di una commedia dell'arte di ritardo giocavano a servirsene con stupore in maniera impropria finendo col coltivare basilico e prezzemolo nelle vasche e comprendere il fresco d'estate davanti al frigorifero aperto dicevano tuttavia che i baresi erano dotati di una qualche carica ironica dalle cui frecciate non risparmiavano neppure se stessi a chi arrivi per ferrovia la fontana di piazzamoro offre la vista acquatica di via sparano pine e palme si alzano dai ligustri delle siepi tra gli autobus della calabro lucana diventata appuro lucana che stazionano in attesa di raggiungere i paesi collinari e montani dell'interno nel frassuono del traffico nell'andirivieni dei pendolari che affollano uffici e università in autunno e in primavera poi il chiasso è coperto dallo strepito dei tordi si radunano tra le chiome degli alberi in un cicaleccio impressionante come in un'assemblea di indemoniati alle nove la città è nel caos invasa dai pendolari che vengono dalla provincia più lontana dallo corotondo e da canosa via sparano è già affollata tra le vele di ombra fiori piante ornamentali sistemate alla confluenza delle vie che la attraversano per creare degli atolli pedonali sistemata nel cuore del quartiere murattiano il secondo centro storico di Bari quello avviato da Murat nel 1813 la via congiunge la stazione ferroviaria con la più imponente arteria della città Corso Vittorio Emanuele la via imperiale che sfila tra il teatro Piccini e il palazzo della prefettura e guarda in faccia al teatro Margherita se Corso Vittorio era la via delle parate militari certamente pensata in funzione di facciata dai Savoia e dal fascismo via Sparano è la strada delle vetrine e dello struscio una volta alla confluenza con Corso Vittorio dava su un chiosco dove si vendeva l'acqua del Serino allora per questa via passava Benedetto Croce aveva allacciato rapporti con la città dai primi del secolo da quando Giovanni la terza si era recato a Napoli e lo aveva convinto ad accettare la direzione editoriale della casa editrice ci furono dialoghi cordiali ma fermi tra i due lettere che partivano e venivano da via Sparano a palazzo Filomarino e viceversa a quel tempo il palazzo Mincuzzi col suo cupolone vittoriano era già una meraviglia del quartiere attorneato da palazzi ad ampi finestroni e finti bugnati a tinteggiature a freschi da belle poc chissà se i vetrinisti volavano in cieli di vetro come figure sciagalliane i vetrinisti che nottetempo si appendono a fili invisibili per dialogare con i manichini che assumono di volta in volta pose hieratiche o fintamente casuali parla hai voglia talora di intimare a questi abiti che si sorreggono per miracolo antigravitazionale ai soffitti o piovono a corpo morto dalla spalliera di una sedia mentre gli argenti firmi come in teche museali ti tentano e mormorano la storia delle tentazioni di Jean Valien via sparano che va letta con l'accento sulla penultima per indicare il nome di un personaggio del medioevo che volle insieme alla batelia al condottiero Melo al poeta schiavo il bene della città e non con l'accento sulla prima come si direbbe nell'indicativo del verso sparare è una serie di vetrine e palazzi di fine secolo la sera diventa la strada dei giovani che non passeggiano più non strusciano più ma stazionano in gruppi promiscui e promiscuano addossati ai portoncini sottovoce lapposi e carezzosi è la via dei complessini musicali dei virtuosi che questuano con uno strumento degli accattoni e dei giramondi in autostop ma non ha un caffè non ha tavoli e non ha sedie come in corso cavur per esempio fu proprio pensata luogo di affari e tale è rimasta nonostante la protervia dei giovani il pastorale d'argento la barba presa di fumo e la faccia scura abbrustolita dal sole di levante da mietitore questo il santo che ci consegnano le immaginette sacre le tele le statue di legno e di cartapesta è san nicola vescovo di mira patrono di bari da nove secoli da quando cioè 62 marinai e alcuni presbiteri ne rapirono le ossa e dalle coste turche la trasportarono in puglia da nove secoli trasudano un liquido miracoloso la manna queste ossa accolgono nella cripta della basilica paesani e forestieri anzi poco i paesani si lamentano a bari perché san nicola è troppo amante dei forestieri ma ci si lamenta in ogni paese del proprio protettore san nicola sembra prediligere bambini verginelle pescatori animali domestici per secoli i pastori in transumanza sono venuti a maggio a ringraziarlo per aver tenuto stesa la mano sulle loro greggi i pastori dell'abruzzo e della murgia sono tornati a dicembre a pregarlo di vegliare sulle bestie durante l'inverno san nicola pastoricchio e massaro e sono venuti a piangere lingua per terra le mamme i miracolati gli storpi di nascita e i malati san nicola protettore dei sonni dei bambini dispensatore di fortuna tu san nicola manda manda mandagliela ricca e senza mamma recita un distico di una ninnananna maligna con cui una madre augura al figlio di ottenere una sposa ricca e orfana di leggende fiorite attorno al santo di Bari ve ne sono un'infinità per lo più parlano di bambini e adolescenti salvati dai coltelli di osti ingordi la più nota diffusa in tutta Europa come ha avuto modo di dimostrare padre Gerardo Cioffari un infaticabile dominicano raccoglitore di memorie nicolaiane racconta appunto di tre orfanelli ammazzati e ridotti in lombi sul consiglio della moglie da un'oste senza scrupoli e messi a macerare poi in sala moia san nicola capitato nella locanda chiede da mangiare di fronte al piatto fumante si accorge che gli è stata servita carne umana levatosi di tavola compie il miracolo della risurrezione dei bambini e punisce l'oste e la moglie mentre tuona di certo oste perdono avrai ma tua moglie non l'avrà mai tra fiamme di spine alte e chiare per l'eternità la farò bruciare un archeologo francese dal nome chilometrico Xavier Marie Joseph Barbier de Montaul nel luglio 1875 compie un viaggio di studio in Puglia e approfitta per analizzare e descrivere in un diario la basilica di San Nicola e i tesori del santo l'architettura della chiesa le condizioni delle reliquie i contenitori della manna i reliquiari trovano posto nelle descrizioni riportate da queste pagine Barbier de Montaul il cui diario io ho letto in un'edizione curata da Giovanni Dotoli e Fulvia Fiorino due coniugi che da anni si preoccupano di editare i resoconti di viaggio compilati da visitatori stranieri della Puglia racconta che dalla Saint-Chapelle Carlo D'Angiot fece inviare insieme a una croce d'oro la spugna che i romani presentarono a Cristo sulla croce e recuperata secondo la tradizione da San Luigi insieme a un dente di Santa Maddalena non immaginava Barbier de Montaul che qualche anno più tardi sarebbe giunto a Bari ad osseguare Santa Claus lo zar Nicola II in persona e che il nome del santo e per rendere cosa utile a tanti pellegrini che dalla Russia venivano a Bari avrebbe fatto erigere una chiesa in stile orientale dotandola di icone e su pelletti di preziose tornando da Torremare di sera la città appare tagliata dall'acqua per una fila lunghissima di lampioni che getta luce sul marciapiede ma non riesce a materiare gli schiaffi d'onda che si abbattono contro i frangifrutti nelle serate estive non provo mai ad affacciarmi su quel marciapiede sempre affollato ma nelle primavere appena ventate puoi frequentarlo con un amico o da solo i passi fanno compagnia allo sciabordio del mare e chiamano i pensieri l'asfalto mi porta le sollecitazioni dell'esistenza del quotidiano mentre il vuoto oltre i lampioni pare la metafora di una creatura che immagino silenziosa nascosta da qualche parte una e molteplice come uno è il mare e molteplici sono le sue onde appena decifrabili nella notte le onde si accaniscono con fragore attraverso le zone di luce e di ombra che si alternano tra un lampione e un altro mentre procedo tra il cerchio della città e la sfera del mare di luce di luce di luce